Sarà stata la tranquillità della raggiunta matematica salvezza o ricordo di epiche sfide passate che odoravano di scudetto. Nel recupero della 17esima giornata di Serie A si è vista forse la miglior Treviso Basket della stagione, capace dell'impresa di battere 80-74 l'Olimpia Milano, una delle due corazzate cioè del campionato di Serie A assieme alla Virtus Bologna che solo 5 giorni prima aveva stravinto al Palaverde. Complice anche il turnover imposto all'Armani da coach Ettore Messina, Treviso Basket ha saputo costruire gioco e applicare grinta difensiva costringendo così gli eredi delle storiche scarpette rosse a forzature e disattenzioni. Due nomi su tutti fra i trevigiani, Russell autori di 20 punti e 4 assist e Killo con 16 punti frutto di un impeccabile 5 su 5 dall'arco. Bene anche Bortolani con i suoi 15 punti mentre fra i milanesi i minutaggi ridotti hanno distribuito punteggi a quasi tutti i giocatori della rosa. La Nutribullet ha colto il momento giusto per scavare il divario dell'ultimo periodo con un parziale di 13-0 al quale Milano non ha saputo reagire. E il bel paradosso per Treviso è che con questa impresa i bianco-azzurri si ritrovano in corsa per i play-off che potrebbero arrivare in caso di vittoria nel derby triveneto di Trieste se contemporaneamente Pesaro venisse sconfitta. Pare impossibile pensando che fino alla sconfitta della fortitudo con Napoli di domenica i trevigiani temessero di poter retrocedere. In tre giorni si potrebbe capovolgere invece ogni prospettiva.